dunque quello che vi apprestate ad ascoltare è il secondo episodio della nostra serie dedicata alla cultura e alla letteratura del secondo novecento siamo qui ospiti con questa rassegna sul canale del diario di jennifer bogart che ringraziamo come molti di voi avranno notato questo episodio era stato già pubblicato la settimana scorsa siamo però poi andati incontro ad una serie di disagi dovuti ad alcune inesattezze storiche che abbiamo per sbaglio inserito all'interno dell'episodio in particolare abbiamo confuso kart russell con russell crowe per questo ci siamo anche beccati una querela di kart russell che non sappiamo adesso bene come gestire adesso stiamo infatti per contattare un avvocato per affrontare il processo e poi un hacker fan di kart russell ci aveva rimosso il l'episodio incriminato ora abbiamo pensato di ripubblicarlo inserendo prima questo nostro momento di scuse e però lasciando l'episodio così com'era buon ascolto a tutti sentite questo rumore tra l'altro ero indeciso se farlo con la bocca il rumore proviamo con la bocca bello con la bocca questo è il rumore di un numero da circo tra i più celebri il numero del lanciatore di coltelli un numero molto antico la cui versione più incredibile e adrenalinica è quella in cui una donna viene legata su un bersaglio di legno che gira mentre un lanciatore lancia dei coltelli contro il tabellone che vanno a conficcarsi esattamente attorno al corpo della ragazza e si produce il classico rumore toc 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 eh sì ragazzi è un numero pericoloso bene continua la nostra serie dedicata alla vita dei grandi protagonisti culturali del novecento messa in letteratura dai più grandi scrittori postmodernisti contemporanei nello scorso episodio abbiamo parlato della vita di kart russell raccontata nel romanzo biografico di ian mcg ean mcg ean mcg ean mcg ean mcg ean mcg che si chiamava dal dal gladiatore a picchiatore grasso oggi raccontiamo la storia di una lanciatrice di coltelli che si era formata per anni come assistente e bersaglio vivente per altri lanciatori di coltelli è una storia vera raccontata nel romanzo omonimo di thomas pinchon che comincia proprio così c'era una volta una lanciatrice di coltelli che si era formata per anni come assistente e bersaglio per altri lanciatori di coltelli e è un romanzo di thomas pinchon non ha bisogno di presentazioni thomas pinchon è uno scrittore affetto da una grave malformazione per cui la sua testa assomiglia a un sacchetto di di carta da fornaio con sopra un punto di domanda è una malattia molto particolare per cui thomas pinchon non gradisce molto comparire in pubblico e quindi lo si vede poco in giro comunque torniamo alla storia all'inizio della nostra storia la nostra lanciatrice è l'assistente del grande sbirulini che era un prestigio che era un prestidigitatore molto molto affermato famosissimo e c'è famosissimo nel suo paesello natale ecco il paesello di svirgulin cioè non è che poi nel paesello di svirgulin lo apprezzassero tutti gli abitanti cioè diciamo che però che aveva un buon seguito di una buona trenti una ventina di persone ma ad alcune di queste venti non è che fosse proprio simpaticissimo e andavano a vederlo perché non c'era niente da fare ad ogni modo un grandissimo il grande sbirulini quindi la nostra lanciatrice si è formata come bersaglio vivente di sbirulini e c'è da dire che è un ottimo bersaglio vivente infatti è stata colpita solamente una volta di striscio e si è procurata una ferita lieve alla spalla tuttavia questa lieve ferita l'ha fatta riflettere si è voltata a guardare la sua sagoma disegnata dai coltelli piantati sul tabellone e ha visto anche una piccola chiazza di sangue della sua ferita alla spalla in corrispondenza della posizione sul tabellone dove c'era il coltello dove c'era la spalla insomma e in quel momento ha capito che la possibilità di essere colpiti durante il numero non dipende affatto dall'abilità del bersaglio che è legato ma soltanto dalla bravura del lanciatore che spesso lancia bendato o di spalle fino a quel momento non si era accorta di questo risvolto la consapevolezza finale arriva quando legge un consiglio filosofico su uno dei più rinomati veicoli di filosofia complessa dei nostri tempi i bigliettini dei baci perugina versione occidentalizzata e kitsch dei biscotti della fortuna quindi apre un bacio perugina un giorno e trova scritta nel bigliettino una frase di confucio che dice se puoi evita di farti lanciare dei coltelli dalla gente lancia tu dei coltelli alla gente questa frase anche se un po vaga la illuminò e la nostra lanciatrice decise di cambiare vita era stanca di essere solo una pedina nel grande gioco del mondo un gioco fatto di gente che lancia i coltelli e di gente che se li prende i coltelli addosso o attorno alla sua persona e alla sua esistenza coltelli che ridimensionano i contorni delle persone bloccandone le possibilità come le sbarre di una prigione e la fortuna era che grazie al suo mestiere di ricevitrice di coltelli questa metafora del lanciatore di coltelli non era neanche una metafora ma la vita vera cioè non doveva neanche sforzarsi a interpretarla e capì anche molte altre cose capì che i rapporti di dominazione tra lanciatore e bersaglio erano obsoleti e stupidi ed esistevano per compensare la frustrazione del lanciatore del pubblico insomma questi lanci di coltelli erano una metafora della penetrazione dell'atto sessuale ma che cosa nuova che interpretazione originale insomma leggendo il bigliettino di confucio sui baci perugina capì un sacco di cose e decise di passare dall'altra parte perché c'era tutto un mondo là fuori con scritto sopra il suo nome già il suo nome isabella teodolinda steffesen vosttefesen vosttefesen mary bisiscelli ilaria nanda robertina colangelo wostocraft il suo sogno era di sentire il suo nome completo annunciato da una presentatrice della televisione che di sicuro si sarebbe incartata e lei le avrebbe sorriso e avrebbe detto non si preoccupi sa lo pronunciano male tutti pensi che l'impiegato dell'anagrafe quando mi hanno registrata ha avuto un doppio esaurimento nervoso era un uomo tranquillo ma quel giorno si spogliò nudo e minacciò i passanti con una mannaia è un uomo tranquillo ma quel giorno si spogliò nudo e non si spogliò nudo e non si spogliò